Uno vecchio adagio reggita, non c'è due senza tre. E allora è il momento di far fede al motto di conquistare il terzo successo di fila. E l'obiettivo in casa gela. I biancazzurri, forti delle vittorie ottenute con Sersale e due torri, domani alle 15 riceveranno sul neutro di Leonforte il gladiator. Impegno difficile, considerato con la squadra campana, nonostante la sconfitta di domenica scorsa, ritenuta dagli addetti ai lavori una corazzata. Ma in questo momento, per buona fine compagni che viaggiano a mille, nessuno e niente possono ostacolare il cammino, fin qui intrapreso. Stiamo lavorando con la massima serenità, con il massimo entusiasmo, quindi per noi domani siamo con la massima concentrazione perché vogliamo assolutamente i tre punti. Ma vi rendete conto che siete in testa alla classifica? No, noi per il momento la classifica non la guardiamo, anche perché noi viviamo giorno dopo giorno. Quindi, ripeto, noi prepariamo le partite per vincerle e poi ci prendiamo, dante il massimo naturalmente, e ci prendiamo il risultato che viene. Naturalmente ci votiamo questo bel momento e cerchiamo di continuare. Cosa ti mette da gladiator, che è una squadra attrezzata per disputare un ottimo campionato? Intanto affrontiamo una squadra fortissima con elementi di categoria che è abituata a vincere. Loro vengono sicuramente qui per riscattare la brutta sconfitta di domenica, quindi troveremo una squadra agguerrita, ma noi allo stesso tempo sappiamo che cosa andiamo incontro e quindi con la nostra serenità, umiltà soprattutto, cerchiamo di affrontare la partita con la concentrazione al massimo. Anche per domani, in terra e nese, il Gela non sarà solo, ci saranno i tifosi al seguito. Si gioca a Leonforte, ma è come se si giocasse al Vincenzo Presti. Preferivamo sfruttare il fattore campo qui a Gela, visto che stiamo attraversando un buon periodo, magari con l'aiuto dei nostri tifosi affrontare il gladiator a Gela era tutta un'altra cosa. Però sappiamo che abbiamo sempre a seguito i nostri grandissimi tifosi e cercheremo insieme di continuare magari con la striscia positiva per regalarci ancora questi bellissimi momenti.